Un'altra estate trascorsa con il viadotto Can Salamone chiuso al transito veicolare, malgrado annunci e tentativi nei mesi scorsi di procedere ad una riapertura parziale, prima dell'inizio della stagione estiva. Ad una ipotesi di riapertura sta lavorando il neoassessore ai lavori pubblici del comune di Sciacca, Giuseppe Neri, che ha programmato per la prossima settimana ulteriori verifiche, ma in ogni caso sembra sfumare la possibilità di una riapertura a breve termine. Riapertura a breve termine con i lavori di consolidamento ultimati? Sicuramente no, ma si potrebbe ipotizzare un'apertura temporanea, non appena verranno fatte analisi geognostiche che ci garantiscano che il ponte si è comportato in maniera lineare, come lo ha fatto dal 2012 al 2014, e quindi gli esami successivi ci confermano un movimento anche costante, anche se pur minimo, allora si potrebbe ipotizzare una temporanea apertura. Nel frattempo c'è da dire che i lavori di consolidamento generale del ponte verranno avviati immediatamente, perché c'è un progetto preliminare dell'importo di 2.930.000 euro, che per ora è alla protezione civile. Il commissario della protezione civile, l'ingegner Foti, darà incarico al genio civile invece di Agrigento per la redazione del progetto esecutivo. All'interno del quadro economico del progetto esecutivo sono già state accantonate le somme pure per gli esami geognostici che serviranno per il progetto esecutivo. Questi dati e queste somme soprattutto potrebbero essere anche utilizzate per verificare eventualmente lo stato di fatto in cui si trova il ponte. Un dato importantissimo ci sarà dato dalla verifica dello stato delle travi e soprattutto dei trefoli. Verremo la prossima settimana con un drone a verificare da vicino le condizioni anche delle travi, molto da vicino, assieme ad altri tecnici. Intanto avvieremo, se riusciamo ad accantonare delle somme, a trovare delle somme per dei saggi, ai plinti di fondazione e alle pile che ci garantiscono un minimo di risultato e come ripeto quella forma di coerenza, di comportamento coerente che si è avuta negli ultimi anni, si potrebbe ipotezzare anche durante il corso dei lavori che ripeto si avvieranno a breve perché un progetto esecutivo per poi renderlo canterabile passerà qualche mese e per i lavori, sono i lavori di consolidamento generale che non interessano soltanto le cose di cui abbiamo parlato ma interessano tutto il ponte. Quindi se nel frattempo questi lavori ci consentiranno di aprire parzialmente il ponte e saranno i risultati a darlo. Quindi nessun allarmismo ma nello stesso tempo ottimismo perché una struttura di questo tipo non si comporta in maniera drastica, cioè non è che collassa, ma manda degli avvertimenti che possiamo sondare in ogni momento. Assessore Neri che poi ritiene superata la strada tracciata dalla precedente amministrazione comunale quella di affidare a dei professionisti l'incarico di valutare le condizioni del viadotto per un'eventuale riapertura al transito dell'arteria. Non è un ipotesi che voglio scartare, quella è stata una manifestazione di interesse a presentare dei curricula da parte di tecnici per poi affidare delle indagini preventive ma di fatto tutto questo iter era già stato bypassato nel momento in cui qualcuno ovvero la protezione civile di Palermo stava per dare in carico cosa che spero si faccia nei prossimi giorni perché l'ingegnere Foti darà in carico al Genocivile di fare il progetto esecutivo, almeno questi sono i dati che si vincono dalle carte e quindi semmai in una fase successiva, nel momento in cui occorresse fare delle indagini o diagnostiche oppure occorresse fare delle relazioni, si potrebbero prelevare le somme all'interno del quadro economico ma mi sembra una cosa che in questo momento non è coerente con quello con cui si è proceduto, con la linea che si è tenuta in considerazione fino adesso.